Bentornati a persone, oggi la nostra trasmissione ha un ospite speciale, poi lo dirò nel corso del nostro dibattito, ed è il professor Vezio Ruggeri, e parleremo di un tema che è sempre di grandissima attualità, che è il nostro cervello, ma ovviamente anche di tutto quello che è legato al cervello, quindi non soltanto come una opera anatomica che noi abbiamo, ma un qualcosa che fa la nostra vita nel bene e nel male. E quindi oggi abbiamo modo di parlare in maniera più approfonditamente, dicevo, devo presentare il professor Vezio Ruggeri, da oltre 50 anni, è uno psicofisiologo? Vogliamo partire proprio da questo, ma lo psicofisiologo è il neurofisiologo, ma in che cosa si differenzia? Ecco, io sono orgoglioso di essere psicofisiologo, perché il neurofisiologo è che studia gli aspetti psicologici del funzionamento del cervello, cioè no, il contrario, il cervello svolge alcune funzioni che sono psicologiche, per esempio in certe aree del cervello si sviluppa il linguaggio verbale, in altri i calcoli matematici, in altri si programma l'attività, tante funzioni del cervello. Questa specializzazione che i colleghi neurofisiologi fanno è sacrosanta, per cui noi impariamo ogni volta nuove acquisizioni, apprendiamo nuove acquisizioni, però vogliamo inserirle nel dialogo tra cervello e corpo. E questo apre un orizzonte completamente diverso, perché lascia intravedere in qualche modo la struttura del Dio come unità psicofisica. Sul fatto che sia un'unità psicofisica, sembra che sia una cosa nuova, che si riscopre, che ogni filosofo rimette nell'immaginazione collettiva. No, un abbraccio è fisico o psichico? Eh. Come si fa a fare dell'abbraccio soltanto la parte fisica? Sì, qualcuno dirlo dice, ma questo che è un abbraccio il tuo, freddo come sei, no, questo qua è positivo. No, sono psicofisici. C'è una forma di tradizione psicologica che considera psicologico soltanto, per esempio, l'intenzione di abbracciare, il desiderio di abbracciare, e sviluppa la logica di questi eventi creando un'importante disciplina che è la psicodinamica. Ma questa disciplina che è la psicodinamica va riscritta nel concreto della realtà corporea. Per cui un abbraccio è psicofisico, è quello che è fisico, altrettanto psicologico. Perché il modo di abbracciare ha infinite sfumature che definiscono una relazione, la esaltano, la chiudono. Un abbraccio soft, similcarezzevole, un abbraccio rigido, indifferente. Ecco, questo è psicofisiologo, che vuole vedere l'unità psicofisica dell'io, un'unica funzione coordinata, in cui funzioni psichiche sono strettamente coordinate con quelle cosiddette fisiologiche. Chiarissimo. Ma fatevi in mente, la questione della mano, quando uno stringe la mano alle altre persone, quello è un bigliettino da visita. Anche verso sconosciuti c'è gente che la stringe molto forte, c'è gente invece che ti infila quella mano nella tua... E' un pesce lesso, manca la maionese. E veramente, io confesso che quando mi capita questa storia della mano così infilata, io mi fermo e dico alla persona di ricominciare da capo, perché la mano si dà diversamente. Ecco, perché puoi esprimere cordialità. Mi stai confermando, ti do del tu, perché sei un professore che io conosco da tanti anni e quindi è più facile rivolgermi in questo modo. Ma quindi questa cosa è molto molto chiara. Però mi è meno chiara il neurofisiologo. Il neurofisiologo studia le aree del cervello, quindi funzioni di singoli distretti, esaminando la loro potenzialità psicologica. Cioè, una parte del cervello che studia per esempio l'immaginazione, è una parte precisa del cervello. Ed è, corrisponde ai lobi occipitali, i V1, V2, certe aree. Occipitali dietro. Sì, dietro. Oppure alcuni si sono specializzati nel individuare i nuclei del talamo, dell'ipotano, di una parte centrale del cervello, che presiedono al controllo delle emozioni. Però il loro studio non osa uscire da questo campo. Definiscono quest'area di ricerca e non studiano quello che noi, in quanto psicofisiologi, vogliamo fare, studiare anche le connessioni tra le aree. Il cervello non è l'io. L'io è un sistema di funzionamento più ampio, che connette le parti del cervello e le armonizza, per cui non siamo scissi, e le collega anche al corpo. Perché va bene lo studio del cervello, va bene lo studio della coscienza e questi problemi, ma percepire il proprio corpo come un'unità. Non solo che è mio, ma che sono io, che è la mia struttura. È un'operazione psicologica di sintesi percettiva complessa. Non so se questo apre un discorso un po' troppo elaborato, però... No, ma è molto chiaro. Devo dire, capisco adesso dell'affermazione, sono orgogliosamente psicofisologo, adesso è molto chiaro, molto più completo come tipo di approccio. Che non esclude la specializzazione di ricerca. Quando si fa ricerca scientifica, si sceglie un settore e si approfondisce. Si sceglie un argomento. Poi, dopo che si è fatta quella ricerca che verifica un'ipotesi di funzionamento, bisogna collegare quella con le altre conoscenze. Allora, questo lavoro di sintesi è fondamentale. Perché ha del miracoloso il fatto che noi ci sentiamo come un'unità psicofisica. Questo non è ovvio. Le patologie che possono insorgere ci chiariscono che questo non è sempre così. Alcune persone vivono in modo scisso la loro esperienza. Non collegano una funzione con un'altra. Vuol dire che quello che sembra normale è il prodotto di un'attività dell'io, ego, del cervello, che ha la funzione di sopravvedere, coordinare, stimolare, unificando le parti. Creando una realtà esperienziale del io. Ma questo ovviamente prende in considerazione anche il contesto nel quale vive la persona. Perché l'aspetto sociale influisce... Fondamentale. Fondamentale quello che dici, certo. Però non si può pensare, come succede spesso, soprattutto ai laici, chiamiamo laici quelli che non si occupano specificamente, non si rendono conto che anche l'aspetto sociale passa attraverso meccanismi corporei di percezione. Se io mi adeguo ad uno schema sociale, devo in qualche modo percepirlo, assumerlo, elaborarlo e collegarlo con le altre funzioni. E diventa per esempio un quadro sociale, una sorta di guida comportamentale, che genera programmi comportamentali. Se io sono un credente, per esempio, non troverò strano che in una sala, come la Chiesa, una domenica, mi inginocchi. Vuol dire che ho introiettato uno schema di comportamento che però passa attraverso il sistema di percezione. Quindi il corpo è psicogenetico, genera psicologia. È il prodotto... perché è interessante questo fatto che c'è una genetica di base, che dice quello che è la memoria della specie, che dice quello che io sarò, alto, basso, gli occhi verdi, gli occhi blu, eccetera, quello che so. Però poi questo programma genetico che è depositato chimicamente nelle cellule deve realizzarsi. E questo sistema di coordinazione che consente la realizzazione del programma genetico è quello che chiamiamo io, come psicofisiologi. Per esempio, tutto è genetico, ma se non mangio assolutamente muoio. Se non ho stimoli percettivi, tu sicuramente ti ricorderai di quando hanno studiato Spitz e gli altri, i bambini, in deprivazione sensoriale. Non c'è sviluppo corporeo. Quindi genetica va bene, ma c'è questa mediazione che consente la realizzazione del programma genetico memorizzato per la specie. Mi veniva in mente, proprio in previsione di questo nostro incontro, il film di Herzog, l'enigma di Kaspar Hauss, che spiega molte delle cose che dici. Perché lui era stato in deprivazione sensoriale per tanti anni, viene scoperto da adulto. Rimettersi nella società con gli usi, i costumi, il pensiero, i ragionamenti, le tradizioni, è stato... Perfetto. È vero? La percezione è un nutrimento dell'io nel suo sviluppo e anche dello sviluppo fisico, non soltanto psicologico. Questo è un campo a parte, interessante. Certo, diciamo, la sociologia, forse questo è uno dei campi per quanto riguarda il degrado, quando parliamo delle periferie, i non luoghi, effettivamente quello è... Prende coscienza di questa realtà. Manca qualche volta il ponte di connessione per proporre ricerche sperimentali adeguate, come il gruppo sociale crea modi di pensare che il soggetto assume e che diventano realtà psicologiche, psicofisiche, comportamentali. Ma... e adesso lo stato della ricerca su cosa si sta indirizzando, praticamente? C'è un campo molto interessante, che è quello sull'immaginazione, in cui io anche collaboro, che ha scoperto da una ventina d'anni, più o meno, che l'immaginazione viene sviluppata in precise aree del cervello. Risponde un po' alla domanda che facevi tu all'inizio, che cos'è la neuropsicologia. Ci sono dei neuropsicologi che studiando l'attività del cervello, elettrocefalograficamente, vedono che se uno immagina, le cellule di quella zona si comportano in modo identico a quando uno si rappresenta lo stimolo esterno. E questo comporta una rivisitazione, perché l'immaginazione è considerata sempre qualcosa di inconsistente, di sospeso, di cinemateria. Non si sa dove collegarla. Ma cominciare a pensare che le cellule del cervello lavorano per l'immaginazione come lavorano per la percezione, apre un nuovo orizzonte. Allora viene da riflettere in modo forse stimolante o provocatorio, perché nella scienza, per fortuna, ci sono divergenze anche di opinioni. La scienza è fatta di ipotesi che sono verificate, confermate, contraddette. Questa è la scienza. Non è la scienza. L'applicazione della tecnologia crea oggetti stabili, relativamente stabili. Ma la ricerca scientifica è fatta di inquietudini ipotetiche, ipotetiche, fondamentali. Allora viene da dire, ma non ci accorgiamo forse che anche soltanto percepire significa formare nel cervello delle rappresentazioni. Nel senso che io non vedo te. Vedo quello che attraverso la telecamera, quasi come la telecamera della regista, trasforma di te attraverso fili elettrici, chiamiamo così i nervi, le vie nervose che vanno al cervello, trasforma te in rappresentazione di te. E che faccio? Chiudo gli occhi e voglio rievocare, rievocarti. Allora si accende allo stesso meccanismo. Faccio riferimento alla stessa rappresentazione. Naturalmente ci sono rappresentazioni molto fortemente memorizzate, altre più labili, altre di nuova formazione, c'è la creatività e la rappresentazione, è un capitolo ulteriore della ricerca scientifica. Ma che percepire vuol dire rappresentarsi il mondo? Ma sai che in parte conosci sicuramente quel libro di Lying, La politica dell'esperienza? Lui dice, non della rappresentazione, dice io non vedo te, io ho una esperienza di quello che tu sei. Oh, come la rappresentazione diventa emozione e assume una certa fisicità, per cui si parla di esperienza, questo è un altro capitolo interessante. Però vorrei fare un esempio. delle crisi di una coppia. Molte persone quando parlano con l'altro non vedono l'altro, ma vedono la rappresentazione che hanno in testa dell'altro cristallizzata. Se si imparasse a vedere di più si potrebbe capire che l'altro può cambiare, può avere delle sfumature. Si introdurrebbe una certa dinamica in una coppia rigida, che si rigidisce sulle sue stesse fondamenta. Perché? Perché vede quello che si rappresenta all'interno dell'altro e questo si sovrappone all'altro. Non so se questo... No, 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 è molto chiaro. È solo che non è facile per le persone astrarsi da questa condizione, perché gli viene naturale. Esattamente. Perché alcune rappresentazioni diventano naturali, perché rappresentano dei punti stabili su cui si organizza la persona. Per cui il piano psicologico non è un piano dell'occasione, delle situazioni. E neanche rivisitare esperienze antiche. Quello certamente è confermato. Intorno a questo c'è un'ampia discussione, possiamo tornarci. Ma la psiche è organizzata per punti forti e per punti modificabili. C'è una resistenza alla trasformazione che non è... Quando raggiunge certi livelli diventa patologica. Altrimenti è normale che ci sia la percezione di se stessi come di una struttura stabile nei punti fisici e psicologici. Se uno sente che gli manca una gamba, ha un'esperienza di stabilità. La stessa cosa succede se è un principio psicologico per lui fondante, viene meno. Mette in crisi la struttura. E a proposito di questo, ma questa intelligenza artificiale di cui... che vuole imitare e sostituire addirittura non soltanto l'aspetto manuale delle persone, ma vuole imitare proprio anche le funzioni cerebrali, il ragionamento. Ma pensi che sia qualche cosa che riusciremo a farla veramente? Penso di sì. Anche se il punto fondamentale, ancora per ora, perché si possono fare molti progressi, ma quello che non si può fare è il fatto che io sento, non solo percepisco, perché diciamo subito che cos'è la percezione. La percezione è, per opera dei recettori, posso percepire una carezza su una mano, oppure uno stimolo visivo, uno stimolo acustico, è questa trasformazione di uno stimolo del mondo esterno in attività bioelettrica, nel sistema nervoso, e il linguaggio che il sistema nervoso ha. Quello che è interessante è che il soggetto può evocare nel corpo, per esempio nei muscoli, un'attività che poi autopercepisce. Allora, il concetto su cui noi adesso lavoriamo, sperimentalmente, è come si collega, per esempio, un'immaginazione, per esempio di te o della regista o dell'ambiente, in vissuto emozionale. Perché ci sono delle connessioni tra la parte visiva e la parte cosiddetta del feeling, in cui si produce un'attività muscolare che si esprime in forma di tensione, tensione, calore. Ma questo non è che è lo stimolo di per sé. Devo fare una traduzione per cui, vedendo una certa immagine, questa immagine si collega con il sistema che controlla il resto del corpo e accende delle sensazioni come se fossero nate dal stimolo esterno. Mentre queste sono connessioni che si hanno con le rappresentazioni, auto-evocate. E si può auto-evocare delle sensazioni. Il tutto però avviene in modo inconsapevole. Per cui noi abbiamo sempre una tonalità affettiva che è autoprodotta. Modulabile, bloccabile, esaltabile, ma è autoprodotta. E quindi bisogna collegare la dimensione immaginativa con quella delle sensazioni che vengono dal corpo che mi dicono guarda che questa rappresentazione provoca in te altre sensazioni, che chiamo del feeling, del sentire. In italiano, per fortuna, rispetto al feeling o al feeling tedesco, c'è questa radice, sentire, che lo lega direttamente alle sensazioni. Sono sensazioni autoprodotte. Ma quindi questo accade anche nell'ambito delle arti terapie? Sì, nelle arti terapie si tratta di lavorare a ampliare lo spettro dell'immaginazione. Molte personalità sono coartate per motivi sociali, per motivi ambientali, per motivi anche di non stimolazione appunto. Allora le arti terapie lavorano ad ampliare la gamma di esperienze che uno ha fatto. Ma anche a gestire questo rapporto. Molte, perché un altro tema importante che forse sarebbe interessante brevemente affrontare, è quella della inibizione. Alcune rappresentazioni e alcune sensazioni molto intense mettono il soggetto in difficoltà perché egli teme che provochino una distruzione dell'io. Immaginiamo un'eccitazione di un certo tipo, mettiamo erotico, troppo forte in un bambino piccolo. Che cosa si fa? Ci sono degli automatismi che bloccano queste sensazioni troppo forti. Perché il bambino può aver paura in alcune esperienze di scoppiare. Poi ci sono i divieti, poi ci sono le pressioni culturali, c'è un certo tipo di morale per cui questo si inserisce anche. Però in realtà l'io ha sempre questa attenzione particolare che proprio consiste nel autoregolare quello che può mantenere stabile la sua struttura. Questo in fisiologia si chiama omeostasi. Omeostasi. Per cui avvengono questi autocontrolli. Quindi è una specie di equilibrio che uno raggiunge. È un equilibrio tra eccitazione e inibizione che qualcuno raggiunge. Allora l'arte terapia può cercare, con adeguate tecniche eccetera, di modificare per esempio la paura di queste esperienze. Molte volte la paura di queste esperienze dipende dalla percezione di se stesso come instabile, come insicuro. E questo è un tema che noi affrontiamo quando ci occupiamo di arti terapie e non solo di ricerca, lo affrontiamo valorizzando l'organizzazione posturale del corpo. C'è molta psicologia nella postura. Non soltanto per segnali evidenti. Uno vuole avvicinarsi o vuole allontanarsi, mostra simpatia, antipatia. No, proprio il modo di essere nel mondo, con le spalle un po' incurvate o con le spalle retro spostate indietro. Allora c'è il protervo, c'è l'umile. La personalità della persona si esprime attraverso la sua postura. Che vuol dire postura? Poi posizione nello spazio. E noi diciamo che la postura è una posizione esistenziale. Cerchiamo di lavorare nelle arti terapie, sia sul piano dell'immaginazione, rapporto all'immaginazione, emozione, e come queste vengono inserite nel modo di presentarsi nel mondo. È un modo di essere al mondo. Il Dasein dei filosofi esistenzialisti viene riscritto nelle coordinate fisiologiche. La postura vuol dire questo. Molto interessante. Questo ci permette, anche quando incontriamo le persone, di fare quasi una specie di fotografia immediata da come si sta ponendo, da come sta dritto, da come si a queste cose, ma se uno è attento, a volte capisce molto. Impara a riconoscere, ma anche impara ad esprimerle. Perché l'inibizione è un grosso capitolo che interviene a frenare lo sviluppo, l'educazione, per cui la didattica. Perché la psicologia è importante per riorganizzare processi patologici, ma soprattutto per orientare verso una pedagogia, anche infantile, ma di tutta l'età, completamente diversa. Penso che il tuo lavoro sia stato gran parte questo, di riformulare esperienze pedagogiche che sono utili dal punto di vista anche formativo, non solo di nozioni che tu hai trasmesso, no? Certo. È stata l'impresa che tu hai condotto brillantemente. Certo. Ma volevo chiederti più che altro come curiosità. Perché uno dei grandi temi ovviamente della psicologia è stato monopolizzato dalla psicoanalisi, che è quello non tanto della coscienza, ma soprattutto quello dell'inconscio. Volevo chiederti, ma cosa ne pensi di questa? Non ci siamo detti mai prima in questo argomento. Ma casualmente io sto scrivendo un saggio che si intitola La psicofisiologia scopre l'inconscio. È incredibile che tu mi faccia che imponga questo come si. L'inconscio esiste, non esiste, perché ritorniamo a quelle sensazioni, però bisogna capire che l'inconscio va scritto nel rapporto tra struttura e funzione. Che vuol dire? Molte volte, per esempio, noi abbiamo un pianoforte che è una struttura. La funzione del pianoforte è quella, una volta che si percuotano i tasti e le corde, è mettere dei suoni. Questa è la funzione del pianoforte. Per la psiche esiste lo stesso. C'è una struttura anatomica su base genetica che sviluppa alcune funzioni. Le funzioni sembrano qualcosa di evanescente, perché durano finché la struttura lo produce. Il pianoforte non stimolato è muto. Ecco, l'inconscio dovrebbe studiare più profondamente i rapporti tra immaginazione ed emozione e come si collegano con i meccanismi di inibizione. Se uno studia l'inibizione e comincia a capire quello che è poi il cuore del concetto dell'inconscio, di portare via dal campo di coscienza qualche cosa che altererebbe il funzionamento dell'io. L'altro mistero è, non è soltanto di portare via, ma che questo materiale portato via può ricomparire nei sogni, nei lapsus. Ecco, questo studio dovrebbe essere più focalizzato perché la parte cosiddetta scientifico-sperimentale è utile per capire questi meccanismi. Naturalmente c'è un po' di preoccupazione che questa parte scientifica tolga la sostanza psicologica, tolga l'aspetto umano dell'esperienza. No, il pianoforte è meccanico, Beethoven cercava sempre dei pianoforti migliori facendo livelline dall'Inghilterra, ma è una struttura che produce funzioni, è questo intreccio. Per cui l'inconscio è una funzione dell'io e va collegata con altre funzioni dell'io, quale l'immaginazione. Eccolo l'esempio? Beh, va collegata con, per esempio, con come funziona la memoria. Perché se pensiamo, l'inconscio è questa memoria messa in un angolo, di difficile accesso. È bella questa, la memoria messa in un angolo, di difficile accesso. Di difficile accesso. Questo è un capitolo. È un capitolo intero di difficile accesso. Allora, questa memoria messa in un angolo. Un neuropsicologo studierebbe dove, in quale parte del cervello viene messo, per esempio. Qualche altro si mette a ridere, è una funzione diffusa, che non è questa, e c'è un dibattito su questo. Non tanto laico, perché anche gli scienziati possono essere degli ottusi religiosi. Senza offesa. Uno scientismo di bassa lega. Ecco, però questo, noi pensiamo che questo meccanismo di mettere nell'inconscio sia quello appunto di spostare dal campo di coscienza. Ma non ci soffermiamo su delle cose molto più semplici. per esempio, io vedo una persona, ho un'esperienza positiva con questa persona, ma la dimentico. Allora ci sono, ma che cosa faccio? Che vuol dire dimenticare? Perché non le posso avere tutte presenti contemporaneamente. Devo selezionarle, organizzarle. Questa è una funzione del Dio. Quindi alcune devo saperle rievocare al momento opportuno nel contesto delle operazioni dell'Io. Ma sono rievocabili? Sì, alcune cose no, altre sono bloccate. Noi abbiamo sviluppato da anni una teoria psicofisiologica che è un argomento di discussione. Non è una verità assoluta, perché la ricerca, insisto nel dire, specialmente qui in televisione, la ricerca è ricerca, se no non si chiamerebbe ricerca, si chiamerebbe trovato, invece è ricerca. Allora, che, per esempio, per bloccare un'emozione, bisogna risalire a una teoria delle emozioni. E una delle teorie che noi seguiamo risale addirittura da alcuni colleghi bravissimi dell'Ottocento. Un americano, James, è un danese, Lang, che dicono che l'emozione che è organizzata dal cervello nasce da una modificazione del corpo che è un effetto retrattivo di informazione. Il cervello dice, vede una figura di orrore, allora, emozione di paura. Quello che succede nel corpo in rapporto alla paura diventa segnale che io percepisco. Ora, riflettendo sulle emozioni, non abbiamo molto tempo, quindi... Sì, siamo proprio alla conclusione. Ecco, la rabbia, per esempio, la rabbia, la paura, la tendenza di paura-fuga. Sono tutte situazioni corporee prodotte dal cervello, da centri specializzati dall'ipotalamo e del sistema limbico. Adesso anche l'insula svolge un ruolo, si scopre un ruolo importante. Tutte queste funzioni, queste attività, sono un autosegnale che mi dicono che... Prodotto da chi? La studio più forte è quello dei visceri, il cuore. Ma ci sono anche delle emozioni che non toccano direttamente il cuore. Questo batticuore ci vuole un ammoramento, i folli, un po' troppo declamati emotivamente. Ma sono i muscoli, sono le tensioni muscolari. Se questa ipotesi è vera, e non abbiamo il tempo per dilungarci su questo, se questa ipotesi è vera, come si fa a bloccare un'emozione che mi dice avverto questa tensione? Si blocca la tensione. E come si blocca? Contraendo il muscolo in modo che non si rilasci più. E questo blocco nel muscolo contratto, qualche volta resta per tutta la vita. Finché non cambi la relazione con lo stimolo che può averlo provocato. Diciamo affascinante tutto questo. Probabilmente ci rivedremo. E vedremo delle cose, perché il nostro tempo purtroppo è terminato. Vola mezz'ora quando ci sono argomenti di questo tipo. Però questo argomento di come si può intervenire, secondo me potrebbe essere un altro argomento da approfondire in maniera proprio monotematica. Per me sarebbe un motivo di orgoglio poter comunicare questo a te e a un pubblico. Benissimo. Veramente grazie. Penso che abbiamo, ovviamente come capita quando si fanno cose così veloci, chiaramente magari generalizzato talvolta, tuttavia però credo che abbiamo creato uno stimolo magari ad approfondire e a chiarire alcuni temi che riguardano il funzionamento del nostro cervello. Grazie e alla prossima puntata. Ti ringrazio. Grazie.